Salve, oggi vedremo come configurare un numero di voice su un utile Fritzbox. Entriamo nella configurazione del nostro Fritzbox. Clicchiamo su Telefonia, Propri numeri, Nuovo numero, Prendiamo i parametri ricevuti per email e li inseriamo nei campi, nome utente, poi prendiamo la password, la copiamo, la inseriamo nel relativo campo. Come registrare impostiamo user.voipvoice.it, stessa cosa per il server proxy e lasciamo inalterate le altre impostazioni. Clicchiamo su Avanti, Avanti, a questo punto se il numero è registrato dovremo avere il led verde, perfetto. Lo stato indica che il numero è configurato correttamente del registrato. La preselezione, che è questo codice, serve per utilizzare un numero VoIP piuttosto che un altro, nel caso ne avessimo più di uno configurato sul router, anteponendo al numero chiamato proprio il codice. Andiamo in dispositivi di telefonia, io per le prove ho creato un interno VoIP associato ad uno SNOM, clicchiamo sul tasto Modifica e qui impostiamo a quale chiamate in uscita e in entrata deve reagire lo SNOM. Quindi, decidiamo che in uscita l'interno dovrà utilizzare il numero VoIP appena creato, mentre l'ingresso dovrà reagire solo al numero creato. In questo caso, essendoci solo un numero configurato, avremo solo questo numero presente nella lista. Clicchiamo su OK. Torniamo in propri numeri e proviamo ad effettuare una chiamata. Andando in trasmissione vocale, vedremo alcune cose interessanti, come ad esempio il codec utilizzato e il jitter, calcolato in millisecondi. Adesso proviamo a chiamare un cellulare. Sì? Siamo pronti per usare il VoIP.